Perché Conte poi ha accolto in serata il documento presentato dal comitato scientifico, da lui tra l'altro messo in piedi che propone tuttora lo svolgimento, lo stop soprattutto delle manifestazioni sportive per 30 giorni. Se a porte chiuse o a porte aperte se ne sta discutendo, se ne è discusso, anche perché poi ci sarà un decreto legge sul tavolo giovedì nel Consiglio dei Ministri che poi farà chiarezza su tutto. Tutto questo alla luce di un'assemblea di Lega che si terrà confermata domani nel Salone d'Onore del Coni. Ed è dunque, sono ore davvero molto molto cruciali. Intanto il primo passo, quello del Premier Conte insieme anche al Ministro Speranza, si è appena concluso. Stiamo raccogliendo anche le voci dei campi gruppo che la spicciolata stanno lasciando palazzo Chigi. Però così come questa notte e soprattutto l'assemblea di Lega di domani, i previsti al Coni, sono ore cruciali per capire come si andrà a disegnare il calendario di Serie A. Grazie, grazie a Francesco Tringali. Ti chiedo di portare eventualmente anche qualche ospite. Ripetiamo, non ci interessa fare politica, non abbiamo le competenze, non abbiamo le capacità e le qualità, neanche lo vogliamo fare. Però vogliamo capire se si gioca o non si gioca, se si gioca a porte chiuse o a porte aperte. Sicuramente un'altra gestione negativa arriva dalla Coppa Italia domani in campo a Torino, Juventus, Milan, partita rinviata 24 ore prima. Nel frattempo in serata alle 20.40 è arrivata quella che è una notizia un po' destabilizzante per tutto il mondo dello sport in generale, evitare per 30 giorni manifestazioni anche quelle sportive che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. È una delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico, come diceva Francesco Tringali, voluto dal Premier Conte, che potrebbe integrare ovviamente il decreto del primo marzo e che sarebbero da adottare per tutto il Paese. Buonasera da Alfredo Pedullab, ritrovato. Ciao Alfredo. Ciao Michele, grazie e buonasera a voi. L'apertura fino alle ore 20 doveva essere il caos Marotta che parla, Zang, l'apertura di un'inchiesta dalla Procura Federale, poi passa tutto, scivola in secondo piano, il caos Milan in terzo piano, il Cagliari che cambia allenatore, arriva Walter Zenga come tu avevi preannunciato nella serata di ieri in quarto piano, adesso il rischio che per 30 giorni si ferma il giocattolo, ovviamente ci sono, ripetiamo, scusa e poi ti lascio la parola. Non parliamo di cose serie, lo fanno altre televisioni, molto meglio di noi, noi parliamo di cose come il calcio, quando si gioca, quando c'è Juve Inter e quindi in questo dico la gravità di fermare tutte le manifestazioni sportive per 30 giorni. Gravità relativa rispetto a quelle che sono le gravità vere in questo momento in Italia. Sì, gravità relativa rispetto a quelle che sono le cose più gravi che noi abbiamo sempre premesso dallo scorso lunedì, non da ieri, da otto giorni, cioè da quando tocchiamo sistematicamente e quotidianamente questo problema. Io sono un po' in imbarazzo perché comunque la Serie B sta giocando, la Serie C, Girone A e Girone B non gioca a porte chiuse per tutelare degli incassi, perché le società di Serie C devono incassare il Girone C, gioca. La Serie D non gioca. La Serie D non gioca. La Serie Dimmi Tu gioca o non gioca. La vigilia di Juve e Milan a 24 ore circa dalla partita abbiamo questa decisione che secondo me doveva essere anticipata di almeno 72, 102, 82, 172 ore. Non so quale sarà la decisione e quindi cercheremo di stare attenti. Se la decisione dovesse essere quella di giocare a porte chiuse, chi non ha giocato a porte chiuse, adesso che fa? Se adegua a giocare a porte chiuse, mi riferisco al Girone A e al Girone B di Serie C, la ritengo una soluzione che non fa altro che confermare l'inadeguatezza nel prendere decisioni che doveva essere una nel momento in cui è scoppiato il bubone. Allora, premesso che stiamo, tra virgolette, picchiando duro sul sistema calcio italiano perché ci svegliamo la mattina con una notizia, la sera andiamo a dormire con un'altra, perché litigano tra di loro, perché non trovano una soluzione, perché fanno dei rinvii, arrivano all'ultimo secondo e la stanno gestendo malissimo. E c'è anche da dire che sotto il punto di vista politico ci dicono una roba una settimana, una roba che poi dura sette giorni, un'altra roba che dura trenta giorni e c'è anche da sottolineare l'ineguatezza in questo caso proprio anche dell'aspetto politico di chi ci sta gestendo e governando che probabilmente sta navigando completamente a vista. Gianluca Paparesta, buonasera, ben ritrovato, il collega di Radio 24, buonasera Giovanni Capuano, buonasera e siccome c'è un calcio che va avanti e un pallone che rotola, noi l'abbiamo presa, abbiamo detto hai fatto il live Serie B, no, va in onda perché l'unica che parla di calcio questa sera è lei, Valentina Ballarini. Ciao Michele, buonasera a tutti, eh sì perché la B gioca. Dico anche tra 30 secondi, se la mia voce continua a calare, io vengo lì e tu vieni qui che ovviamente il telespettatore ci guadagna anche i contenuti, però facciamo che tra 30 secondi cambiamo la posizione. Tutti buttare giù, dai. Facciamo un cambio, dai, porta chiusa, porta aperta. Non esagerare. Cosa scusa per un là? Non esagerare, dai. Eh, vedi, te lo dici anche Alfredo. Ci guadagni il cambio, non esagerare, mi sembra che stia andando un po' oltre. La voce è... Tu sai cosa io possa pensare? Ma la voce ti tiene per altri 47 minuti, tranquillo. Ah, sono 47, benissimo. Longari, buonasera dal touch. Facciamo una comparazione, facciamo una comparazione voce. Una comparazione voce, una comparazione anche ritorno a casa, come è accaduto la scorsa settimana, lo scorso weekend a diverse squadre che pensavano di scendere in campo e poi hanno visto le rispettive gare sospese. È accaduto anche al Milan, che sta facendo ritorno proprio in questi istanti a Milano, da Torino, dopo che è stato diramato il comunicato della Lega Calcio da parte del suo presidente Dal Pino, che preso l'atto dell'ordinanza del prefetto di Torino del 3 marzo 2020, ha disposto il deferimento a data successiva della gara della semifinale di ritorno della Coppa Italia, comunicando che la suddetta gara è quindi rinviata a data da destinarsi, una guerra di comunicati che ha coinvolto anche l'Inter. Entreremo poi nel merito di questo, dopo quanto è accaduto ieri sera con la bufera social scatenata da Steven Zanga. Oggi è arrivato anche un comunicato stampa che Beppe Marotta ha affidato a Lanza, in cui ha spiegato come la volontà nell'azzurra sia quella di opporsi alla data del 9 di marzo per recuperare Juventus City. Parleremo anche dell'Inter, di questa situazione davvero paradossale. Forse l'Inter sta un po' esagerando, l'abbiamo detto già nella giornata di ieri. Inizialmente eravamo d'accordo con la linea nera-azzurra, adesso le parole di Zanga hanno un po' cambiato le carte in tavola, perché ci sono modi e modi per fare politica, ci sono modi e modi per dire che non si è d'accordo con un Presidente di Lega, ma definirlo clown. E arriva dalla Cina il figlio di un grandissimo imprenditore a dare lezioni ad un manager, che comunque qualcosa ha dimostrato nella sua carriera professionale, probabilmente anche il figlio d'arte dovrebbe comunque in questo caso avere rispetto almeno dei ruoli. Questo non significa che non deve bastonare politicamente quella che può essere la politica della Lega Calcio, ma ci sono modi e modi. Non c'è l'Ume Milan domani, una soluzione ve la diamo subito. Domani, grandissima partita alle 21 su Sport Italia, in diretta ed esclusiva, si gioca in Francia la semifinale di Coppa di Francia. Domani, in diretta ed esclusiva su Sport Italia, in chiaro, canale 60 del digitale terrestre, Lione-Paris-Saint-Germain. Grandissima partita domani, non c'è Juve-Inter, ci rifacciamo con una grande sfida francese. e poi Santeria-Ren, invece giovedì alle 20.55. Super spot e poi abbiamo tantissimo ovviamente da analizzare questa sera Sport Italia-Mercato. Super spot. Giovanni Capuano, parto da te Radio 24, non si gioca. Juve-Milan rinviata a data da destinarsi, siamo alle solite. Poco preavviso, scarsa organizzazione, poca collaborazione tra le istituzioni del calcio e non solo. Guarda, questa volta è già andata bene, 24 ore rispetto a quello che è successo sabato, se vogliamo fare una battuta è già un deciso passo avanti. Guarda, io vorrei dire qualcosa di intelligente, ma è complicato. È complicato perché chiaramente siamo in una situazione in cui di ora in ora, di minuto in minuto cambia tutto, cambia lo scenario. Cambia lo scenario generale, complessivo e quindi dentro cambia anche lo scenario di questo microcosmo che poi in realtà è importante, perché noi chiaramente ci divertiamo, parliamo di calcio, di calciomercato, ci arrabbiamo, discutiamo, ci dividiamo. Stiamo parlando di un'azienda da miliardi di euro, lo Sport Italiano è un'azienda da decine di miliardi di euro. Quindi non è vero che è un dettaglio, è un pezzo importante di questo paese, quindi va trattato da qui in poi, diciamo da dentro questa emergenza, va trattato come un pezzo importante di economia, come ci sono tanti altri pezzi importanti di economia. Io devo essere sincero, la cosa dei rinvidi delle partite continua a non capirla. Noi abbiamo scoperto dieci giorni fa che c'è un grosso problema nelle aggregazioni di persone. C'era e c'è una soluzione pronta sul tavolo, a meno che non ci sia qualcosa che non ci viene detto, che è lo strumento delle porte chiuse. Può esserci l'opportunità di non mandare l'immagine in giro per il mondo, può essere, ma insomma oggi chi ha seguito la conferenza stampa del ministro spagnolo della Salute loro hanno già deciso di tagliarci fuori, l'UEFA è già in difficoltà, non è un problema solo nostro. Io non riesco a capire perché non si possa portare avanti il calcio, lo sport in generale, professionistico, a porte chiuse e almeno arrivare con una certa regolarità alla fine della stagione. È un sacrificio e io non riesco a capire perché non si riesca a fare. Ma forse adesso diventa, dopo quello che è emerso questa sera, paparesta diventa inevitabile, il problema dalla Lega Calcio è quello che era stato detto, finisco questo concetto. Ma attenzione perché quella cosa del comitato è un po' ambigua come è stata scritta. Sì, è molto ambigua ma l'affrontiamo tra poco con chi è a Palazzo Chigio, vero Francesco Tringali che ovviamente ci racconta tutto, però stavamo dicendo, era stato detto no alle porte chiuse per non esportare un calcio italiano che è a porte chiuse, ma attenzione non è che gli spalti sono vuoti perché la gente non va allo stadio, perché ci sono dei problemi. È un problema che riguarda ora l'Italia, riguarda il mondo, riguarda l'Europa, il porte chiuse come ci sarà probabilmente in Premier è più che giustificato. L'importante è non fermare il campionato, nessuno vuole il porte chiuse, però se questa è l'unica alternativa certo non possiamo fermare il calcio per 30 giorni, paparesta. Se l'unica alternativa è quella. Non possiamo fermare il calcio, soprattutto il calcio è anche una valvola di sfogo e un'opportunità per tanta gente che in questo momento potrebbe essere costretta a rimanere in casa e quindi almeno si distrae un attimo dalle notizie che sono continue su questo virus e su queste problematiche e su questi numeri che purtroppo continuano a crescere in maniera esponenziale. Quindi fermare tutto, tutto lo sport, perché almeno potrebbe essere questa un'interpretazione di questo comunicato di questa sera, sarebbe... o c'è qualcosa che non sappiamo, che è evidentemente talmente grossa che impone un blocco totale e quindi a questo punto dovremmo rimanere un po' tutti quanti in casa oppure almeno dare la possibilità di svolgere queste partite anche se a porte chiuse va bene peccato per lo spettacolo della coreografia che è intorno a una gara ma almeno offre un'opportunità anche a tanta gente di vedere partite in televisione a meno che c'è un altro aspetto e che questa diffusione, questa epidemia non possa riguardare anche il rischio dei protagonisti perché non dimentichiamo che ci sono alcuni... ci sono stati dei casi in Serie C c'è stato un caso di giocatori, uno colpito e poi sono diventati quattro e allora lì diventa veramente un problema grosso, a quel punto devi per forza fermare i campionati il problema delle docce con il vapore ce l'hanno spiegata ovviamente sotto il punto di vista sia sportivo che sanitario perché le docce, perché il vapore poi velocizza la trasmissione di un eventuale virus, poi ripeto qui non siamo a fare sanità a spiegarvi quello che ci hanno spiegato in ambito sportivo perché non si possono fare i giocatori e la doccia insieme non per la vicinanza o per il contatto, per il vapore che generano le docce e a quel punto poi si trasmette più facilmente questo virus non per la vicinanza